Capitolo 14 del libro 10 del Taiyeiki L'ultima battaglia di Nagasaki Tagashige Fin dalla battaglia di Musashino, in oltre tante scontri sia di giorno che di notte, Nagasaki Jiro Tagashige si era battuto nelle prime file. Innumerevoli volte aveva spezzato gli accerchiamenti e si era misurato contro i guerrieri nemici, e perciò un gran numero dei suoi servitori era ormai caduto, finché non furono ridotti ad appena centocinquanta cavalieri. Alla fine del ventiduesimo giorno del quinto mese giunsero degli uomini dicendo «I genji stanno dilagando nelle valli, e pochi delle famiglie dei gran marescelli sono ancora vivi». Allora Tagashige galloppò incontro al nemico ovunque si avvicinasse, senza chiedere il nome dei difensori in alcun luogo, ma respingendoli attaccanti in ogni direzione e facendoli a pezzi da ogni lato. Quando il suo cavallo era stanco ne montavano nuovo, quando la sua spada si spezzava ne cingeva una nuova, ma dopo aver personalmente ucciso trentun nemici e infranto le figlie dei genji per ben otto volte, ritornò nel luogo dove risiedeva il monaco laico di Sagami, nella valle Kazai, dove si inchinò al cancello di mezzo in lacrime, dicendo «Dopo di oggi non potrò mai più salutare il mio signore in questo mondo, il cui volto ho visto mattina e sera, sempre onorato, come i miei antenati, al servizio della sua casata. Da solo ho messo in fuga il nemico in molti posti, ma sebbene io sia stato vittorioso in molte battaglie, da ogni lato le entrate vengono superate dai guerrieri nemici che riempiono tutta Kamakura, e nemmeno il più valoroso può averla meglio su di loro. Il mio signore deve decidersi a non cadere in mano nemica. Non abbia fretta di togliersi la vita, ma aspetti il momento del mio ritorno, perché io cavalcherò con gioia al centro delle schiere nemiche per combattere una degna battaglia, mentre è ancora vivo. Così avrò una grande storia da raccontargli quando attraverserò con lui le regioni dell'oltratomba. Così parlò e ripartì dal Toshuji, e con le lacrime negli occhi il monaco laico di Sagami lo seguì con lo sguardo finché fu distante, pensando amaramente. Non ci rivedremo mai più. Come prima cosa, Takashige si diresse al luogo dove risiedeva l'abate del tempio Toshuji, l'armonioso reverendo della montagna del sud, dato che era la sua ultima battaglia. E il maestro della dottrina zen si sedette al posto d'onore per riceverlo. Takashige non fece alcuna riverenza di fronte a lui, essendo molto di fretta, e oltretutto essendo ricoperto di armatura ed elmo, ma si inchinò un pochino a sinistra e a destra, e gli chiese chi è l'uomo valoroso? Colui che prende rapido la spada e si fa avanti, rispose l'armonioso reverendo. Non c'era parola alcuna che Takashige potesse dire dopo aver sentito ciò. Quindi, di fronte al cancello, Takashige salì sul suo cavallo, con i suoi centocinquanta guerrieri davanti e dietro di lui. Gettato via il suo vessillo, egli cavalcò tranquillamente all'interno dell'accampamento nemico, pensando unicamente a raggiungere Nitta Yoshisada per lottare con lui fino alla fine. Con cuore sereno, i guerrieri Genji li aprirono una strada, finché egli giunse a non più di cinquanta metri da Yoshisada. Senza dubbio non avevano capito che si trattava di un nemico, dato che lui e i suoi uomini non portavano alcun vessillo e ne avevano tolto le spade dei propri foderi. Ma la fortuna era dalla parte dei Genji. Quando il momento era a portata di mano, di mano ci fu tra di loro uno che vide Takashige e lo riconobbe, Yura Shinsaemon, che si trovava di fronte a Yoshisada e gridò a tanta voce. Quello che si avvicina senza standardi è Nagasaki Jiro. Di sicuro è venuto fin qui con un impreciso intento, perché è forte e valoroso. Uccideteli tutti, che nessuno ci sfugga! Allora, tremila guerrieri si affollarono in avanti da est e ovest per circondare i cavalieri di Takashige con gli uomini di Musashi nelle prime linee. Il mio trucco è andato storto, pensò a Takashige. Riunisse il rete i suoi centocinquanta guerrieri in un solo punto e li diresse al galoppo nel centro dei tremila cavalieri con un potente grido. Avanzando impetuosamente in avanti per dar battaglia, si infiltravano qua, comparivano là e combattevano facendo volare scintille di fuoco. Rapidamente si riunivano e si disperdevano. Di colpo erano alle spalle quando sembrava di averli di fronte e di certo molti guerrieri erano nemici che ai Genji sembravano essere amici. Ognuno di loro era in dieci posti diversi allo stesso tempo ed erano pari a diecimila uomini e i guerrieri di Yoshisada non riuscivano a trovare Takashige pur uccidendo i suoi seguaci in gran numero. Vedendo tale stato di cose, Nagama Rukuro comandò. I nemici sono tutti senza vessilli, prendetelo come un segno per lottare con loro e ucciderli. Allora guerrieri Genji si affiancarono ai nemici a cavallo e lottarono fieramente con loro, uomini del Kai, di Shinano, di Musashi e di Segami. Coloro che lottavano cadevano al suono insieme, dove qualcuno prendeva dalle teste e qualcun altro perdeva la sua. Il cielo fu scurato dalla polvere sollevata, la terra fu impastata di sudore e sangue. Di certo non fu diverso quando Xiang Yu umiliò i tre generali di Han o quando il duca di Lu Yang fece ritrocedere il sole per tre costellazioni. Xiang Yu, 232-202 a.C. rovesciò la dinastia Qin e fu poi protagonista di una lotta serrata con Liu Bang, suo ex luogotenente, che lo vide morire nella battaglia di Kai Xia, nella quale si uccise sulle sponde del fiume Wu, mentre Liu Bang fonderà la dinastia Han. Si dice che mentre il duca di Lu Yang stesse combattendo, abbia minacciato il sole con la sua lancia, facendolo tornare indietro. Come in precedenza, Nagasaki Jiro combatteva contro il nemico con i sette uomini che li erano rimasti. Rispingeva gli avversari che li si avvicinavano, continuando a pensare di lottare con il gran maresciallo dei Genji. In vero aveva gli occhi puntati su Yoshisada e suo fratello. Quando ci fu un uomo che li galoppò vicino per tagliargli la strada e misurarsi con lui, Yokoyama Taro Shigesane, un abitante della provincia di Musashi. Nagasaki lì si fece incontro, pensando, se è un degno nemico potrei combattere con lui. Ma quando vide che era Yokoyama Taro Shigesase, si disse, si disse, purtroppo non è affatto un avversario alla mia altezza. Mise Shigesane sul suo lato sinistro e fendette il suo elmo all'altezza dell'inserzione a croce della parte inferiore, così che Shigesane fu tranciato in due e morì. Allo stesso modo, il cavallo di Shigesane, tagliato a ginocchio, si rovesciò arretrando su un cumulo di perra. Un tale Sho Saburo Tameisa, abitante della stessa provincia, che aveva visto ciò, galoppò in avanti quando giunse il suo turno di lottare con Nagasaki, pensando, qui c'è un degno nemico. Ma Nagasaki rise sonoramente, dicendo, se fossi venuto qui per battermi con un membro della tua banda, non avrai sdegnato Yokoyama. Vieni, vieni, ti mostrerò come un indegno avversario finisce ucciso. Egli stringeva ancora la cinghia dell'armatura di Yokoyama, la sollevò in aria e la lanciò via con facilità per una distanza di oltre cinque lunghezze d'arco, facendo cadere dai loro cavalli a testa in giù due guerrieri, colpiti da quel corpo lanciato come una pietra e morti sputando sangue. Allora, con voce possente, Nagasaki proclamò il suo nome, dicendo, ora posso morire in battaglia, come richiede il favore dei militari. Giro Takashige, il figlio maggiore del figlio maggiore del monaco laico Nagasaki Enki, sovrintendente di Takatoki, il precedente governatore di Sagami, discendente di tredicesima generazione di Sadamori, generale dei Taira, a sua volta discendente di terza generazione da Katsurabara, il principe quinto figlio dell'imperatore Kammu. Se qualcuno di voi ha sete di gloria, si faccia avanti per affrontarmi. Dunque, recise le maniche e la gonna dell'armatura, ed era pronto a incunearsi tra i nemici con i capelli che le ricadevano sul volto, ma i suoi servitori gallopparono di fronte al suo cavallo e lo trattennero, dicendo, che stai facendo? Adesso devi tornare indietro per spingere il lord di Sagami e togliersi la vita. Il nemico è già entrato nella valle in disordine. Avete ragione, rispose Takashige. Mi sono divertito tanto a uccidere nemici che ho dimenticato la mia promessa al nostro signore. Forza, sai così, torniamo indietro. Così parlò e si ritirò con i suoi sette servitori fino a Yamano Uchi. Allora, cinquecento cavalieri della lega di Kodama insultarono Takashige e i suoi uomini. Spregevoli i codardi, tornate qui! E lanciarono i loro cavalli all'inseguimento, perché, senza dubbio, credevano che stessero fuggendo. Ma ogni volta che i nemici si avvicinavano, gli otto si voltavano per affrontarli, per ben diciassette volte, da Yamano Uchi fino alla valle di Kasai. A causa di ciò, Takashige giunse al luogo dove si trovava il monaco laico di Sagami con ventitré frecce nelle sue armature, che pendevano simili alle piume di un aerone bianco. Il nonno di Takashige, il monaco laico che l'aveva atteso a lungo, chiese. Come mai sei arrivato così tardi? E rispettosamente Takashige rispose. Era mia intenzione arrivare vicino al Gran Maresciallo Yoshisada per lottare con lui fino alla morte. Più di venti volte ho galloppato in mezzo ai nemici, ma non sono riuscito ad arrivarli a tiro. Ne ho visto alcun uomo degno di farmi da avversario. Ho ucciso e messo in fuga quattro o cinquecento guerrieri di nessun valore, uomini di Musashi e Sagami, e pensavo di inseguirli fino alla spiaggia, facendoli a pezzi e squarciandoli in due. Ma la mia mente era inquieta per il mio signore, e quindi sono tornato indietro. Così, raccontando la sua valorosa storia, sollevò gli animi di coloro che erano prossimi alla morte.